Nel frattempo mi hanno servito anche una deliziosa zuppa, io l'ho già provata, l'ho già assaggiata, è veramente buonissima, c'è dentro della carne, della carne proprio tenerissima, si taglia veramente con un grissino, una zuppa a base di pasta, l'hanno fatta davanti ai miei occhi, e come al solito, come è tradizione in Malesia, c'è il famosissimo limone piccolissimo verde, il limone laima, abbiamo dentro anche un po' di insalatina, ed è condita questa qui che vedete, questa salsina rossa, è una salsa piccante che io ho fatto aggiungere io e ci hanno messo anche un po' di salsa di soia, ecco le salse sono a scelta, io l'ho provata, anzi la sto mangiando intanto che tengo la telecamera, è proprio buonissima, devo dire che l'Indonesia si è dimostrato una grandissima rivelazione per quello che è il cibo e anche i costi, è molto economico, veramente un posto molto economico, è un posto anche, adesso io sono qua da poche ore, però è un posto che dà subito grandi sensazioni.